Io non sono normale, lo so, lo so, ho del telegiornale, me la prendo per tutto, per niente, me la prendo col tempo e la gente, aiutami a capire che cosa ho dentro, che cosa è questo tormento, aiutami al paradiso non ci arrivo e l'inverno è suggestivo, ma sono noti a dirmi, no, ma sono noti a dirmi dove sto, ma sono noti a dirmi cosa c'è che c'è in me, e intanto sento che anche gli ageli lo sanno e non ce la faccio più, ma se entri in quella chiesa e la prendo con Gesù e non servono discorsi e ne vero passaporti se funziona come qua, userò la credit card. Aiutami, il paradiso è troppo stretto, brucia il vuoto nel mio letto, aiutami, il paradiso è troppo stretto. Io non sono normale, odio, odio Vago Natale, me la prendo con tutti, per niente, e ce l'ho con la gente, io non sono normale. Aiutami, il paradiso è troppo stretto, aiutami, il paradiso è troppo stretto. Aiutami, il paradiso è troppo stretto, aiutami, il paradiso è troppo stretto, aiutami, il paradiso è troppo stretto. Che cos'è questo tormento? Perché la vita è un'avventura che adesso fa paura, dietro il buio delle stelle, al colore della pelle, si nasconde la costante, delle guerre tutte sante. Anche gli ageli lo sanno che non ce la faccio più, ma se entri in quella chiesa e la prendo con Gesù. Aiutami, a capire che cosa ho dentro, che cos'è questo tormento Aiutami, che se inverno è il paradiso, ma sapere chi ha deciso Aiutami, quel paradiso no, non c'entro, tanto io sto bene dentro Aiutami, al paradiso non ci arrivo, e l'inferno è suggestivo Allora, grazie, Loredana! Grazie a te, ho visto una presenza No, forse era una visione, era un miraggio È il tuo angelo custode È il tuo angelo custode, come direbbe Dean Benders Allora, grazie Loredana Perché è l'unico che mi capisce È vero, non solo lui, poi c'è gli amici che ti vogliono bene e che ti capiscono Grazie, grazie tesoro Grazie di essere, grazie davvero, perché ieri Loredana non stava benissimo E stamattina è arrivata qua Che era più arrabbiata del solito No, avevi dei problemi come tutti quanti noi, per cui grazie davvero Sì, per dire che gli alberghi, sempre Ma com'è sta cosa, questi alberghi? Non lo so, non lo so Ma parla qua, siamo sempre senza microfono Sì Oggi La prossima puntata Abbiamo cominciato le due, allora Grazie